Sì, ci abbiamo messo tempo, ma finalmente abbiamo messo tutti quanti insieme, i parlamentari, i consiglieri regionali, le associazioni cittadine, le stesse famiglie dei genitori e dei ragazzi che hanno il diritto di andare a scuola in una provincia dimenticata dallo Stato. Quindi stamattina, bellissimi, ci sono i compaloni, ci sono i sindici, è un inizio di un percorso, perché non è solo la provincia in quanto amministrazione provinciale, ma abbiamo quattro settori da rilanciare. La sicurezza, la scuola, la sanità e i trasporti dei ragazzi non si possono spostare da un punto all'altro della provincia di Caserta, questo è indegno e lo Stato deve accorgersi di Caserta e deve rilanciare, deve mettere mano a Caserta, per non parlare delle neoplasie e della terra dei fuochi. Si parla tanto della terra dei fuochi, ma lo Stato a tutt'oggi non ha fatto niente.